allora ragazzi eccoci qui per una nuova recensione oggi ne ho registrata più di uno per questioni di tempistica vi voglio far vedere un orologio molto particolare eccolo qua è un presagio in questo caso però con il quadrante in porcellana di arita non so se riuscite a vedere da qua ma dopo gireremo la telecamera a un quadrante veramente brillante la porcellana è stupenda orologio già importante parliamo di un orologio che ha un prezzo di listino abbastanza alto ma andremo a vedere dopo voglio ringraziare daniele della geleria monti che me lo manda sempre che mi manda sempre seco e mi dà la possibilità di testare nuovi orologi questo qui ero curioso di provarlo non sono un amantissimo della linea presagio ma questo qui è risaputo però comunque questo che è un orologio che valeva la pena vedere da vicino proprio per la bellezza del quadrante con il codice collector avete sempre il 20 per cento di sconto con la geleria monti trovate il link del sito giù in basso in descrizione saluto gli amici del gruppo 1881 quando si parla di seco io saluto sempre gli amici del gruppo 1881 e soprattutto manuel maggioli con cui mi sento molto spesso soprattutto prima di registrare recensioni per quanto riguarda i seco vi dicevo l'orologio in questo caso mi è piaciuto molto per la bellezza del quadrante ma andiamo a vederlo da vicino vai allora ragazzi andiamo a vedere il nostro orologio qui abbiamo ancora un po di casino abbiamo ancora samurai e seco 5 reissu allora andiamo a vedere il nostro orologio eccolo qua spettacolare guardate sta porcellana intanto vi voglio far vedere che anche vicino al cartellino ci dice che comunque è stato fatto interamente a mano il quadrante vedete con porcellana di arita che è stata lavorata a mano ad alte temperature comunque è veramente spettacolare guardate i riflessi qui c'è stato un grande lavoro manufatturiero da parte di seco su questa linea presagio abbiamo tutti indici e sfere di colore blu ma guardate poi tra l'altro le sfere che che gioco di colori fanno questo qua probabilmente è uno dei presaggi che può valere diciamo la pena di fare anche una spesa comunque alta parliamo di 2000 euro di listino però abbiamo quasi tutto al top da parte di seco su questa fascia di prezzo abbiamo vetro zaffiro trattamento antiriflesso abbiamo movimento 6r quello lago la ricarica fatti ci dovrebbe essere scritto three days qua 72 ore quindi abbiamo un movimento superiore è una grande mano d'opera con questo quadrante in porcellana che comunque sono me deve costare anche molto in termini di produzione vi faccio vedere ancora una volta il riflesso proprio per farvi vedere questo bianco che è spettacolo guardate qua abbiamo dimensioni 40,5 mm 12,46 di spessore cinturino 20 mm che termina 18 vi voglio dire anche il lag to lag perché non l'avevo preso lag to lag di 48 49 mm corona alloggata cassa che secondo me è bella questa che una cassa classica per per presagini ho fatte vedere altre e su questo quadrante abbiamo degli indici guardate questi indici c'è veramente sono proprio dipinti sulla sulla ceramica voglio vedere se riesco a farvi entrare un po più dentro da degli indici questo guardate di ceramica che lavoro come anche le sfere veramente nulla da dire mi piace anche la coda della della sfera dei secondi che è proprio sottilissima un lavoro sull'estetica sono è molto molto importante abbiamo come al solito la corona con il logo seco qui con la s corona con la s e in questo caso fondello trasparente per far vedere il movimento tre giorni il nostro carissimo 6r che abbiamo anche recensito su 62 mass che ho comprato io è un 10 bar quindi è un 100 metri di profondità quindi comunque un dress 100 metri diciamo dress io lo chiamerei dress classico anche se non è proprio estremamente un orologio proprio dress sottilissimo sapete di quelli classicissimi però comunque sicuramente si porta bene con un vestito bracciale che mi piace anche la maglia del bracciale e ovviamente qua abbiamo chiusura d'acciaio tutta bella piena perché parliamo di un orologio come abbiamo detto prima di fascia alta questa qui è la scritta che la porcellana e di arita e come vi dicevo la referenza a questa acqua spb 44 5 j1 orologio che costa 2000 euro vi voglio ve lo voglio far vedere indossato a polso fa sempre un bell'effetto e comunque presa ci sono belli di orologi da vedere anche se come vi ho detto non sono tra i miei preferiti di casa sego ma in questo caso qua abbiamo un presagio particolare soprattutto per la lavorazione il fatto che sego abbia portato comunque un quadrante del genere su questa fascia di prezzo e con questo tipo di lavorazione fatta a mano ragazzi non è poco perché vi posso assicurare che i quadranti di porcellana le trovate magari in orologi che costano almeno cinque volte tanto e qua abbiamo anche il massimo della lavorazione fatemi sapere che cosa ne pensate se avete mai avuto un orologio col quadrante in porcellana mi raccomando seguitemi seguitemi e iscrivetevi al canale ciao ragazzi